cari amici oggi vi propongo il salmone profumato al peperosa e limone servito con cicoria catalonia ripassata peperoncino trentino, aglio orsino, pinoli tostati e filetti di alici per prima cosa ho lavato e cotto la cicoria catalonia in acqua bollente salata a cottura ultimata l'ho scolata e raffreddata velocemente sotto l'acqua fredda ho taglizzato la cicoria catalonia e lo spadellato in un saltiere dove ho messo dell'olio all'aglio orsino il peperoncino trentino tagliuzzato e le alici tagliate a pezzettini o poi insaporito con del sale del pepe di macinino in un saltiere a parte ho tostato i pinoli e poi li ho aggiunti alla cicoria ho tolto le spine alla baffa di salmone ho tagliato una darna e l'ho scottata in un saltiere prescaldato con un filo di olio extravergine d'oliva rosolando entrambi i lati ho aggiunto il peperosa e il succo di limone continuando la cottura infine ho aggiunto un filo di olio extravergine d'oliva e il prezzemolo tritato ho disposto la cicoria nel piatto vi ho adagiato la darna di salmone e ho guarnito con qualche pinolo